Il lockdown l'ho vissuto come un gigantesco momento di pausa e riflessione intorno alle cose che facevano girare il mondo e che giravano anche intorno a me. Devo essere sincero, da una parte grande paura, grandi problemi, sia di salute che di lavoro, di persone intorno a me, ma anche di relativa ritorno alla calma. Paradossalmente sono riuscito e penso ci siano a vedere alcune delle cose non positive, ma che in qualche modo ci hanno fatto frenare rispetto alla vita che facevamo prima, rispetto alle cose inutili. Io vedo che siamo riusciti a ripulirci un po' dalle cose superflue e secondo me è tanta roba. Era un vecchio ascoltatore della radio fin dai tempi di alto gradimento, da bambino a dieci anni ascoltavo Arbore e Buon Compagni perché lo ascoltavamo in casa. Poi Radio Mineral International sempre perché lo si ascoltava in casa e nel frattempo mio fratello più grande, che ha dieci anni più di me, lasciava la politica e si metteva a fare la radio, a Radio Popolare, ed era diventato direttore dei programmi. È stato quasi naturale, schifosissimo familismo che è interare, però in realtà fondamentalmente ho iniziato a fare il bambino rompiballe che entrava con la radio linea accesa su tutto il calcio minuto per minuto alla domenica pomeriggio mentre gli altri andavano in onda. C'era bisogno di far capire come andava il calcio, in una radio di sinistra era complicato, non si parlava di calcio, allora io facevo quello che non ero, in realtà ero un bambino timido, invece entravo urlando gol dell'Inter, così, ho smesso poco dopo, però ho proseguito facendo la rubrica sport della radio e fu la prima volta che mi misero in onda e nessuno però mi spiegò come funzionava il mixer, per cui io parlavo senza abbassare la musica e ecco, dopo la prima puntata mi hanno detto bravissimo, non si è capito un hack e li ho capito come funzionava. Quindi diciamo che Radio Popolare, i programmi televisivi, fare l'autore e poi fondamentalmente all'interno della mia esperienza televisiva sono state due esperienze importanti in ambito direzionale. Il primo ho diretto Viva, Viva Rete A per quegli otto mesi che è stata in onda e poi invece in ambito radiofonico ho diretto per due anni Radio Kiss Kiss Network dal 2002 al 2004 e poi ho avuto la fortuna di esordire come speaker di una radio commerciale, Radio Freccia, 51 anni. E' divertente e anche abbastanza impegnativo perché io sapevo già come si faceva la radio commerciale, tanto è vero che la insegnavo. Quella incredibile velocità di pensiero che ti serve quando contemporaneamente devi parlare, andare in onda, verificare tutta una serie di cose e scegliere quello che dici. Tanto è vero che quando sei in onda tu non ti rendi spesso conto di quello che dici. Poi io faccio quattro ore tutte le mattine assieme ai miei due soci e quindi quando si finisce le quattro ore non hai memoria di quello che fai, però poi ti rendi conto che hai un istinto assolutamente presente, molto molto vivo che ti fa fare esattamente quello che devi fare ed è una sensazione fantastica. preferisco la radio, preferisco la radio perché è più vera, perché è più calda, perché è più immediata, perché puoi ascoltare la musica, perché ha un rispetto diverso per la musica. In televisione io ho sempre provato come autore a cercare di dare informazioni il più possibile precise e cercando di essere il più possibile rispettoso della musica, qualsiasi fosse la musica. Il mio rapporto col prog è meraviglioso per il semplice motivo che il già citato mio fratello Ivan che ha dieci anni più di me, poi un altro fratello più grande che ha cinque anni più di me, ascoltavano prog quando ero bambino. Quindi è come se il mio inconscio affettivo si fosse formato con i Genesis, i Gentle Giant, Yes, King Crimson, tutto, Van der Graaf Generator, quel mondo lì è la mia musica dell'infanzia. Quindi io la adoro, sono completamente di parte, quindi tutte le volte che la sento è come fare un viaggio a ritroso nei momenti più innocenti e candidi della mia vita, quindi puoi immaginare e poi nel tempo da adulto ho cominciato a riscoprirla ascoltandola in maniera diversa e apprezzando e amando ancora di più quelle capacità di essere oltre che ha la musica prog, senza limiti e con una capacità musicale straordinaria e la capacità ideativa, anche se ammetto sono legato soprattutto ai nomi storici. Dico al volo, Close to the Age, Yes, In the Court of the Crimson King, King Crimson e Sally Lingham by the Pound Genesis. Faccio un esempio, tra i gruppi più recenti, quelli che conosco meglio sono i Winstons, italiani però con un evidente appeal internazionale. Loro non sono espressamente legati a quel tipo di suono. Però la cosa certa è che nonostante siano estremamente attenti e precisi, sono capaci di viaggiare. Secondo me la caratteristica fondamentale del prog è il non fermarsi, il non avere un limite, non dire ok, fuori dal blues non vado. No, io vado oltre e non ho paura di sperimentare. Prog è non avere paura di sperimentare e di andare oltre. A parte un paio di brani della PFM, non ci sono mai stati brani che hanno fatto veramente la differenza dal punto di vista anche banalmente radiofonico, nel senso che il prog radiofonicamente ha sempre fatto un po' fatica, sono brani lunghi, complessi. La logica della radio soprattutto negli ultimi vent'anni è quella di solo hit e quindi è difficile trovare qualcosa nell'ambito prog di questo tipo di musica. Però credo che l'altro motivo vero sia che non tutti i gruppi sono stati all'altezza della situazione, cioè tranne quelle che abbiamo citato, ovvero PFM, Banco, anche i Delirium di Fossati, piuttosto che altre cose molto interessanti, ma sempre di nicchia. Di base certe cose non sono mai riuscite a sfondare veramente. Considera anche che all'epoca la musica in Italia era soprattutto legata ai cantautori, quindi per esempio la PFM ha avuto la capacità di fare cose con De André e questo ha favorito anche la sua crescita e la sua capacità di rimanere viva. Invece altri gruppi si sono fermati a ripetere cose molto belle, ma sempre un po' troppo uguali. Ecco, magari non sono stati sufficientemente capaci di crescere, di rimanere prog fino in fondo, diciamo così. Ciao ai lettori di prog, continuate così che io ho bisogno di voi, voi avete bisogno di chi mette musica prog, lavoriamo insieme e log live prog and roll. Grazie a tutti.